Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati con il corpo di spedizione italiano in Russia. Le divisioni italiane nonostante il tempo proibitivo si battono strappando dopo quattro giorni di durissima lotta nuovi successi. Contro la straordinaria superiorità numerica dell'avversario gli italiani hanno tenuto duro nel primo giorno poi nei successivi tre giorni la battaglia si è sviluppata velocemente portando tra l'altro alla conquista di tre centri ferroviari. La nostra artiglieria in azione durante la manovra controoffensiva. Tre giorni è durata la nostra contromanovra sviluppatasi con una violenza senza precedenti. L'aggressività dei nostri scrive un corrispondente è straordinaria. Il teatro della lotta. Il piano operativo del nemico che tendeva ad uno sfondamento è stato completamente sventato. Grazie.